Si è concluso ad Ascoli Piceno il progetto Invasioni Contemporanee con performance, proiezioni e concerti nelle aree colpite dal sisma. Il servizio. 30 artisti, trattori, musicisti e light designer arrivati da tutta Italia, un anno di lavoro, 800 visitatori sui luoghi del terremoto. E' il bilancio del progetto Invasioni Contemporanee, ideato da Melting Pro e realizzato dal comune di Ascoli Piceno insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio della città. Un progetto che ha come finalità quella di produrre un impatto positivo sui luoghi colpiti dal sisma nel 2016, quindi dei territori fragili nella complessità della situazione che si trovano ad affrontare. Arte e creatività diventano dei potentissimi strumenti proprio di rigenerazione creativa che possono in qualche modo favorire il rilancio di questi territori. E' stato un po' questo il cuore di questa progettualità. 12 videodocumentari che sono stati realizzati ad Arquata, Quasanta, Castignano, Montegallo e Offida. Il punto di forza del progetto è stato sicuramente il coinvolgimento delle comunità che è stato possibile grazie all'attività degli artisti che sono stati, si sono calati nei territori e hanno co-creato insieme alle comunità del luogo le loro performance. L'evento è stato chiuso da una serata ad Ascoli Piceno. I visitatori sono stati accolti da performance e proiezioni che hanno ripercorso le tappe dell'iniziativa.